Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo fantastico video haul di Aliexpress! Oggi mi sono arrivati ben tre pacchettini, quindi questo video sarà un mini haul di Aliexpress. Iniziamo dal primo pacchetto. Allora, mi è arrivato questo qui, apriamolo subitissimo. Ho capito! Allora, questa qui è la crema nera per togliere i punti neri. Ci farò sicuramente un video. Bellissima, volevo comprarla da un sacco di tempo, però mi sono decisa soltanto adesso a prenderla e mi è arrivata dopo poco. Andiamo al pacco numero due! Apro questo qui. Sono ben due cover! Wow, ok. Allora, la prima è questa, che è molto sottile e non so, non mi sembra tantissimo resistente. Però comunque è rosa e fucsia ed è carinissima. La seconda cover che mi è arrivata è questa qui con la Bella e la Bestia, che è uno dei miei cartoni Disney preferiti. Insieme alla sirenetta, Frozen e c'è. Infatti se vedete lì ho il mio Sebastian, che si chiama come il mio ragazzo. E niente, io adoro la Disney, infatti ho quasi tutti i DVD, almeno quelli che mi piacciono di più. Ve la faccio vedere, è questa qui. Vabbè, Bell e la Bestia, cioè il principe Adam. Andiamo al terzo pacchetto, e questo qui è molto grande. Wow! Allora, questo già so cos'è, perché ho letto la descrizione. A volte mi spoilerò i pacchi da sola, però non ce la faccio. Non ce la faccio a resistere. Allora, apriamo. E infatti... Allora, questa fantasia sicuramente vi perseguiterà, perché l'avete vista nella mia cover, e avete visto che ho il quadretto uguale alla cover, e adesso ho deciso di comprare il cuscino. Vediamo com'è. Wow, è morbidissimo! Non me l'aspettavo, vi giuro! È bellissimo! Cioè, mi aspettavo che fosse di quel tessuto che, se ti so poi ce la faccia, della scarta vetra tutta guanta. Invece no, è carinissimo, è morbidissimo! Voilà! E niente, queste erano le pochissime cose che mi sono arrivate oggi. Però mi andava troppo di fare un video, non volevo aspettare molti giorni. Una crema, il cuscino, e ben due cover! Wow! Allora, io vi saluto, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Se volete, iscrivetevi al canale, e commentate qui sotto con qualcosa che anche voi avete ricevuto, o che state aspettando. Noi ci rivediamo a un prossimo video, e vi lascio in descrizione tutti i link di queste cose. Io vi saluto, un grosso bacione! Ciao!